e un cammino ricaduti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di forte ci ritroviamo qui se noi per andare a completare la missione di ricevere il tuo prossimo obiettivo in una squadra talpa qualsiasi potete andare dovunque voi vogliate in queste zone qua ragazzi basterà semplicemente atterrare dunque potete andare qui in mezzo qui, qui sopra delle bugle, qui the jones e qui bislaccamente qua dunque ragazzi qui è molto semplice basterà semplicemente atterrare dunque easy peasy level squeezy ci vediamo tra pochissimo con la seconda parte cioè quella di distruggere l'attenzione per raccogliere le parti elettroniche dunque ci vediamo tra praticamente pochissimo tra un minutello bella ragazzuoni un bacione veramente bislacchissimo saluto